dai 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 urania via urania dai via subito attenti subito gambe via di gambe quando ripartiamo via di gambe subito via via grazie bravi 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 ragazze dai ragazze dai murca dai murca dai 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 bravi ragazzi bravi bravi ragazzi per farvi stare in mezzo lì era per accorparci urania sulle braccia urania vedo Ilaria ok un ringraziamento ad alberto parodi perché in mare ha governato alla perfezione tutte le boe compresa quella gialla che gli ha fatto penare grazie congratulazioni all'urania grazie 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 grazie